Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Traffico al momento regolare sulla rete autostradare regionale. Prudenza per pioggia tra Chiusi e Orvieto in A1, raccomandiamo di modellare la velocità. Infipili rallentamenti per traffico tra Scandice e La Strassigna verso Livorno. Ricordiamo inoltre i lavori in corso tra Montelupo e Ginestra per corsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Per i stessi lavori segnaliamo che l'entrata di Ginestra è chiusa in direzione di Livorno. Per il traffico ferroviario all'Eurostar Frecciabianca 86-16 Roma Termini-Genova Piazza Principe sta viaggiando con 33 minuti di ritardo. Il transito a Pisa Centrale al momento previsto alle 15.26 salvo recupero. Prima di salutarci per il traffico aereo il volo Firenze-Palermo delle 15.10 al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 15.30. Il volo Pisa-Parigi delle 15.20 alle 16.20. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!